Ronaldo e Dzeko sono la prima coppia di punte che insieme arriva a toccare i 70 anni. È un problema? No, è solo qualcosa di poco prevedibile fino a qualche anno fa. Oggi siamo in una fase di transito, è chiaro che il tempo si è allungato, ma non si sa ancora quanto. Non è corretto però dire che la Juve è una squadra di anziani. Ha il centrocampo più giovane d'Italia, con McKennie, Betancourt e Klusewski. De Litt a 20 anni, Dybala e Bernardeschi 27 e 26. Molto più dell'età conta, secondo me, la qualità del giocatore, in assoluto. Dzeko è un centravanti molto particolare. Non segna tantissimo, nelle ultime 11 stagioni solo una volta è andato oltre i 20 gol, mentre 3 volte è andato sotto i 10. Per un rigorista è quasi poco, ma è il centravanti che fa più squadra di chiunque altro. Se scommetti tutto su Ronaldo, Dzeko è l'uomo ideale. Conosce a memoria i luoghi del campo in cui muoversi per aprire spazio all'altro. Il problema non sarà Dzeko. Ne avrà più Ronaldo. Sarà lui a dover segnare un'altra volta 40 gol.